Salve, in questo video vedremo come scrivere un messaggio privato sia all'insegnante sia ai compagni. Per scrivere un messaggio privato dobbiamo andare in alto a destra e cliccare sull'icona di dialogo, su questa piccola nuvoletta. Nel riquadro di ricerca scriviamo il nome della persona che vogliamo contattare. Dopo clicchiamo sul nome e qui possiamo vedere la conversazione e giù abbiamo il riquadro per scrivere il messaggio, scriviamo quindi il messaggio qui e poi clicchiamo sulla freccia per inviare. Accanto al nome della persona vediamo tre piccoli punti, se clicchiamo sui punti si aprono diverse disposizioni, possiamo bloccare l'utente, eliminare la conversazione e poi possiamo anche aggiungere ai contatti. Abbiamo la possibilità di creare un elenco di contatti, per fare questo dobbiamo aggiungere ai contatti e poi cliccare su aggiungi. La persona che stiamo contattando riceverà una richiesta di contatto che dovrà accettare prima di poter essere inserita nella mia lista di contatti. Poi a questo punto dobbiamo anche vedere le impostazioni dei messaggi. Accanto al riquadro di ricerca, se clicchiamo su questa piccola ruota, vediamo come sono impostati i messaggi. Di default abbiamo che possiamo scrivere messaggi sia ai contatti sia ai compagni del corso e che quando scriveremo un messaggio la persona riceverà automaticamente una mail. Qui possiamo cambiare le impostazioni.